L'idea che ha avuto Emanuela Orler di proporre una mostra così particolare credo che sia molto innovativa. Il fatto di poter esporre opere con una prospettiva dal basso apre secondo me uno spazio diverso per il fruitore, perché sono opere che vanno ammirate dal basso in alto, quindi gli artisti sono stati chiamati a concepire le loro opere con questa nuova disposizione. Credo che sia una bella idea, io ho pensato di fare un'opera particolare che rappresentasse un po' il cielo a mio modo, proprio perché verrà vista dal basso in alto, quindi penso sia una mostra molto interessante e credo che sia stato anche un ottimo stimolo per gli artisti per creare qualcosa di particolare e di diverso. Grazie a tutti.